Where is the love, the love, where is the love, the love, the love. Il rapper Jimmy Gomez, meglio conosciuto come Taboo dei Black Eyed Peas, racconta come ha combattuto il cancro durante un summit internazionale sulla malattia a Città del Messico. Non mi hanno detto che tipo di cancro avessi, né a che stadio fosse. Mi hanno detto solamente, signor Gomez, lei ha un cancro. Mi è passata davanti agli occhi la vita. Ho pensato ai miei figli, a mia moglie. Non c'è niente di paragonabile al momento in cui ti dicono che hai quella malattia. Paragono sempre la chemioterapia alla guerra, alla tortura, un incubo. Questo è ciò che ho provato. Non sono mai stato in guerra, ma dentro di te, quando si distruggono i tuoi organi interni, tutto ciò che è buono per uccidere quell'unica cosa che è cattiva, il tumore, è una cosa che mi ha ferito psicologicamente, emotivamente, dentro e fuori. Passi dall'avere una vita normale a dover combattere per la tua vita. Poi, la rinascita. L'ho sconfitto e ora voglio utilizzare il dono della vita per dare alla gente speranza e per dire, ascolta, ero giù, stavo in quel letto, ma non sei solo. Sono uno come te e tu sei come me. Riprendi in mano la tua vita. Let's get charged up for life.